Da un commissariamento all'altro in Sicilia. Questa volta tocca all'Assemblea territoriale idrica di Ragusa, commissariata dal presidente della regione Nello Musumeci, su proposta dell'assessore regionale Alberto Piero Bon, insieme a quella di Trapani. L'ATI di Ragusa, ma il caso è analogo per quella di Trapani, non ha provveduto ad avviare le procedure per l'aggiornamento del piano d'ambito, previsto dalla legge e propedeutico alla gestione del servizio, come è stato accertato a seguito di una ricognizione avviata dall'assessorato a giugno scorso. Entrambe erano già state diffidate dalla regione, ma a differenza delle assemblee territoriali idriche di altre province, non hanno provveduto ad adeguarsi recependo l'intimazione ad adempiere. Perciò è scattato il commissariamento.